Dopo il successo della terza edizione, riparte in presenza l'Agropoli International Film Festival, la rassegna di cinema internazionale agropolese che prevede in concorso lungometraggi, cortometraggi, documentari, film d'animazione, videoclip, sceneggiature e tanti altri prodotti audiovisivi. Lo scopo è quello di promuovere la crescita culturale della città di Agropoli, che deve diventare centrale anche nel mondo del cinema, ha dichiarato il regista e direttore artistico Gianni Petrizzo, che punta soprattutto nello sviluppo del cineturismo sul territorio cilentano attraverso i giovani. Il festival sarà ospitato dal 7 all'11 febbraio 2023 presso il liceo Alfonso Gatto di Agropoli con la collaborazione degli studenti, dei docenti e della poliedrica dirigente scolastica Anna Vassallo. In programma una maratona di film arrivati da tutto il mondo per vincere il trofeo della vittoria. Le opere che hanno ottenuto gli screening sono composte da 7 lungometraggi, 26 cortometraggi, 7 documentari, 10 videoclip, 10 new media, 6 sceneggiature. 15 artisti tra registi, attori e produttori si confronteranno con gli studenti in interessanti masterclass. Arrivano da USA, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e Italia.